Criptovalute, blockchain, token di sconto. A Napoli è in corso una sperimentazione tecnologica avanzata su alcuni servizi per rafforzare la trasparenza delle informazioni, ma anche per consentire la diffusione di una moneta virtuale cittadina. Una blockchain è un sistema di certificazione dei dati che salvando simultaneamente le informazioni su migliaia di computer collegati in internet rende praticamente impossibile la modifica dei dati, aumentando così il loro grado di affidabilità. È già attiva un'applicazione pilota per la consegna delle cedole librarie agli studenti, mentre sono in fase di implementazione diverse altre funzioni. È uno dei nuovi paradigmi dell'informatica e abbraccio ovviamente tantissimi settori, dalla trasparenza alle politiche del lavoro, alle votazioni online, ai pagamenti, alle criptovalute e vuole fare in modo che Napoli sia una città accogliente a questa tecnologia e quindi offrire nuovi spazi soprattutto di mercato e di sviluppo per i ricercatori. Non centralizzare più tutte le informazioni con rischio ovviamente di avere poca fiducia o di avere alterazione dei dati da parte di pochi soggetti, ma invece di avere una pubblica amministrazione che sia trasparente e controllabile da chiunque, quindi anche dal cittadino, quindi una vera democrazia partecipata. Dato che a noi interessa in modo particolare è il dato dell'innovazione nell'azione amministrativa, tema sul quale chiameremo ad una riflessione l'Anci e i comuni del nostro Paese. Altra sfida notevole è quella della moneta virtuale. Sono già decine i commercianti cittadini che hanno aderito al progetto e accettano pagamenti in criptovaluta. La moneta complementare, una moneta virtuale che stiamo utilizzando è uno dei tre progetti del progetto Napoli Blockchain e prevede proprio l'introduzione presso le attività commerciali di Napoli e provincia di adozione di sistemi POS, quindi sistemi di pagamento per accettare anche monete complementari. Si lavora ancora alla costruzione di un gettone di sconto che sarà assegnato ai cittadini in cambio di comportamenti virtuosi, come l'uso di alcuni parcheggi di scambio o la consegna dei rifiuti nelle isole ecologiche. Nel progetto di Napoli città autonoma c'è la blockchain, la tracciabilità degli atti amministrativi, la trasparenza della pubblica amministrazione, le criptovalute, bitcoin, come le si vuole chiamare, moneta virtuale. Ci presero in giro un po' di tempo fa con una straordinaria e a noi tanto cara immagine di Totò e Peppino che stampavano monete false e io risponderemo lasciandovi carichi di meraviglie. Quindi Napoli, prima città italiana tra le medie e grandi ovviamente, poi c'è qualche piccola sperimentazione in alcune parti del territorio nazionale in cui è una città che a breve si doterà di una sua criptovaluta. Già circa 200 adesioni, anche il Comune ha una partecipazione molto forte, in particolare con due sue società partecipate, Asia e ANM. Non entriamo nei dettagli perché è bene lasciare anche un po' la sorpresa. Sicuramente il cittadino avrà più moneta d'acquisto, avrà più possibilità di incidere sui prodotti della nostra terra, avrà più possibilità di pagare i servizi con la criptovaluta, avrà più possibilità anche di mettere in campo attività virtuose, ad esempio chi conferisce rifiuti nelle isole ecologiche avrà della moneta da poter spendere con gli esercizi convenzionati che aderiscono a questo progetto, lo stesso vale per i parcheggi, lo stesso vale per ANM, lo stesso vale per il circuito della cultura. Insomma, credo che questo è un modo, ancora una volta, di mostrare come questa sia una città creativa, una città capace di innovare e di mettere in campo azioni concrete e non fuffa come pensa qualcuno.